Ciao, oggi faremo una sfida in verticale. Vediamo se qualcuno toglierà il primato ad Emma. Va bene? Via! Vediamo chi resiste di più. Potete camminare ma non potete scendere. Letizia, abbatti la Emma o no? Ok, va pronte? Via! Andrea, mi ridici ogni 30 secondi, per favore? Tanto io giro un po', così. Vediamo. Chi sarà la prima che cede? Un minuto. Grazie. Debbie! Debbie ha finito? Chi sarà la seconda? Mickey! Rosa, Leti, Emma, Giadi ed Emma. Rosita! Sono rimasta in quattro. No, Emma! Sono rimasta in tre. Giadi no, eh! Giadi, Emma, no! Giadi! Letizia ed Emma! Letizia ed Emma. Due generazioni a confronto. No, è Letizia! Quanto siamo? A due e mezzo, tra tre e due. Due e trenta. Due e trenta. Dai, 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 dai! Tira le punte, Letizia! Tira le punte, Leti! Dai, 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 dai! Tre minuti! No! Vince Emma! Sei imbattibile, Emma! No, non è vero. Eh, sì, sei imbattibile. Per oggi, ancora. Ciao! Ciao! Ciao!